La storia in giallo, un programma di Antonella Ferrera, regia di Adalberto Fei. Johnny Stompanato La felicità non ti aiuta a crescere, solo l'infelicità può farlo. Sono contenta, quindi, che il mio letto di rose sia stato fatto anche di spine. 4 aprile 1958, venerdì santo. Il telefono squilla in casa di Jerry Gisler, l'avvocato più importante di Hollywood. All'altro capo del filo, una voce disperata che Gisler riconosce immediatamente. Sono Lana Turner. È successa una cosa terribile. Può venire a casa mia. Gisler si precipita nella palazzina di Beverly Hills, dove vive l'attrice, e si trova di fronte a una scena raccapricciante. Lana Turner è in lacrime. Sua figlia Cheryl è in preda ad una crisi isterica e in terra, in un lago di sangue, giace il cadavere di Johnny Stompanato, guardia del corpo del cancer Mickey Cohen ed ultimo amante di Lana. Gisler è sterrefatto. Il delitto, che coinvolge una delle maggiori stelle del cinema, pone fine ad un rapporto fatto di grande passione, ma anche di quotidiane violenze. Crazy love Crazy love Crazy love Crazy love It's just a crazy love Quella di Johnny Stompanato era stata una vita avventurosa. Nato nel 1926 nell'Illinois, da una famiglia di immigrati napoletani, entra nei Marines e diventa un eroe di guerra. Qualche anno dopo finisce però a gestire Nightclub. Il suo arrivo a Hollywood, Johnny, lo deve ad un incontro fortunato. È Cheryl, la figlia di Lana, che fornisce in una biografia alcuni particolari. Nel 1948, Sir Hubbard era negli Stati Uniti in cerca di investimenti, quando conosce Johnny e lo porta con sé. Nel giro di due anni, Hubbard gli dà 85.000 dollari. Gli ispettori della finanza sospettavano che fosse ricattato da Stompanato. La carriera di Johnny è sempre più ai limiti della legalità. Il lavoro successivo è infatti alle dipendenze del gangster Mickey Cohen, Occhi Blu. Ma i guadagni provengono anche dalla sua attività di gigolo. È uno dei più quotati di Hollywood. Nell'ambiente lo chiamano Oscar, ma non per le sue doti artistiche. La forma della celebre statuetta pare che abbia qualcosa in comune con lui. Un agente di polizia scrive nel dossier Stompanato Frequenta sempre locali alla moda per incontrare donne facoltose e quando il danaro dell'amante è finito, la scarica e parte alla ricerca di un'altra gallina da spennare. Nel 1957 viene per lui il momento di fare il salto di qualità. Decide di dire basta alle vecchie decrepite e mette gli occhi su una nuova preda. È un'attrice giovane, bellissima e ricca che Johnny desidera da quando, alcuni anni prima, l'aveva vista in un film. È Lana Turner. Cominciò il periodo più nero della mia vita. Ebbe inizio con un mazzo di fiori e un invito innocente per un drink e finì con i titoli sui giornali, con la tragedia e con la morte. L'incontro con Stompanato è favorito dalle particolari condizioni psicologiche della famosa attrice che in quel momento sta attraversando una crisi professionale e poi Lana è molto sensibile al fascino maschile. Trovo gli uomini tremendamente eccitanti e se una ragazza dice che a lei non fanno effetto è una vecchia zitella anemica, una passeggiatrice o una santa. Nella sua vita si sposerà ben sette volte ed è dal secondo marito un ristoratore che ha la sua unica figlia, Cheryl Crane. L'incontro con Stompanato avviene dopo il divorzio dall'ex Baxter, il Tarzan cinematografico. Ottenuto il numero privato dell'attrice, il giovane Camster le telefona presentandosi con un altro nome e citando amici comuni la invita per un drink. La Turner, ignara della vera identità del suo corteggiatore, cade nella trappola. Johnny le manda fiori ogni giorno e la ricopre di regali costosi, senza trascurare la figlia Cheryl. Ricorda la diva. All'epoca giravo i peccatori di Peyton Place e in molte scene indossavo i gioielli che mi aveva regalato Johnny. Ancora oggi, ogni volta che rivedo il film, ho i brividi lungo la schiena. Una sera Lana appare in pubblico raggiante al fianco del suo nuovo accompagnatore. Un suo caro amico che frequenta i nightclub di Mickey Coyne lo riconosce e avverte l'attrice. Ma è troppo tardi. Lana è già innamorata di lui. Johnny era come un frutto proibito. La mia attrazione per lui era molto profonda, un coinvolgimento che andava ben oltre il sesso. Forse c'era qualcosa di sbagliato, di malato in me, ma non potevo fare a meno di lui. E poi il rischio la eccita, la rende viva, accende i suoi giorni e infiamma le sue notti. Scrive Se solo potessi farmi stringere tra le tue braccia, tenerti stretto, stretto a me e sussurrarti all'orecchio «Daddy, sai cosa voglio dire? La tua zingarella». Ma l'idillio non è destinato a durare a lungo. Lana si accorge ben presto che Johnny possiede un lato scuro che spesso emerge e lo rende violento. All'inizio credevo a tutte le menzogne che mi raccontava e quando scoprì la verità era troppo tardi. Ero intrappolata, indifesa. Avevo paura per me, ma anche per Cheryl e per mia madre. Approfittando della realizzazione a Londra del film «Estasi d'amore», Lana lascia gli Stati Uniti e cerca di allontanarsi da lui, ma non sa resistere a lungo. Presto lo richiama e scrivendogli lettere appassionate lo prega di raggiungerla. Ora Johnny è sicuro del potere che esercita su di lei e mostra il suo vero volto. Diventa sempre più esigente e violento, arrivando a minacciarla. Ti mutilerò, ridurrò la tua faccia in un modo che dovrai nasconderti per tutta la vita, tanto sarai ripugnante. Quindi, se ti dico salta, tu salti, se ti dico balla, tu balli, capito? Durante le riprese del film arriva a minacciare Sean Connery, intimandogli di stare alla larga da Lana, ma Connery lo mette K.O. Stompanato è geloso del tempo che l'attrice passa sul set e ogni giorno i due litigano furiosamente, rasentando spesso la tragedia. Lana ricorda una volta in particolare. Cercai di raggiungere il telefono, ma lui mi scaraventò via e mi afferrò al collo. Quando strinse le sue dita d'acciaio sulla mia gola, mi sentii morire, ma fortunatamente riuscì a liberarmi. La Turner comincia ad averne abbastanza di Johnny ed anche gli studios. Poiché il Kenster è entrato in Inghilterra illegalmente, viene fatto rimpatriare con l'aiuto di Scotland Yard. All'aeroporto di Londra, Lana lo lascia con la promessa di raggiungerlo al più presto negli Stati Uniti. Invece se ne va da sola ad Acapulco. Pur avendo fatto il possibile per tenere segreto il suo arrivo in Messico, appena scende dalla scaletta dell'aereo trova Johnny ed uno stuolo di cronisti ad attenderla. Ogni giorno mi rendevo conto che poteva ottenere davvero tutto quello che voleva. a chi se habla en amor che es un idioma singolar con el que a fin podemos expresar la intima verdad che agita nuestro corazón. Ad Acapulco sono giorni di liti terribili, ma la passione non si spegne a giudicare dalle testimonianze degli ospiti delle camere adiacenti. Quando tornano insieme a Los Angeles i giornalisti sono accalcati all'aeroporto e il giorno dopo i magazine titolano Lana Turner torna a Los Angeles con un mafioso. Ma per l'attrice ci sono anche belle sorprese. Lana infatti viene candidata all'Oscar per il film I Peccatori di Peyton Place. Anche se non si aspetta di vincere la prestigiosa statuetta, pensa che la nomination rilancerà la sua carriera. Per questo, senza pensare agli effetti e nefasti che provocherà, decide di andare da sola alla cerimonia per non compromettere la sua immagine in un momento così delicato. Stompanato, rimasto solo a casa, segue nervosamente l'evento alla televisione. Quando Lana, accompagnata dalla figlia, rientra, Johnny è fuori di sé. Questa è l'ultima volta che mi lasci solo. L'ultima volta. Mi schiaffeggiò una volta, poi una seconda e mi stordì. vacillai e scivolai sul pavimento. Allora Johnny mi afferrò e cominciò a prendermi a pugni. Un colpo più forte degli altri mi fece volare attraverso la stanza e andai a finire sul bar. I bicchieri, le bottiglie caddero a terra, si ruppero in mille pezzi. Avevo vetri dappertutto. È un miracolo che io non sia rimasta sfregiata per sempre. L'ana però non racconta a nessuno quello che deve sopportare. succedeva sempre più spesso ma io lo tenevo nascosto a tutti. Provavo vergogna. Non volevo che nessuno vedesse come mi ero ridotta. Alle prime luci dell'alba invece di dormire sognando i momenti magici della serata l'ana giace nel letto col volto tumefatto. Il suo sguardo è su Johnny Stompanato che dorme accanto a lei come se nulla fosse accaduto. Sta così per iniziare una nuova giornata fatta di violenti litigi. La sera dopo infatti Johnny ricomincia ad aggredire e non solo verbalmente l'attrice. Cheryl che ha 14 anni è nella sua stanza e può udire ogni singola parola. È lì che ascolta con trepidazione perché poche ore prima la madre l'ha informata della sua intenzione di chiudere quella relazione. Cheryl ormai da tempo ha intuito la verità. erano liti orribili urla insulti e altre cose che non avevo mai sentito prima poi quei segni sulla sua faccia. Quella sera la mamma mi raccontò che minacciava la sua vita e che non poteva cacciarlo di casa e io le dissi di chiamare la polizia ma era l'ultima cosa che la mamma poteva fare sarebbe stata la fine della sua carriera. La lite intanto si fa sempre più violenta Cheryl si spinge fino alla camera da letto della madre e oltre la porta chiusa a chiave implora i due di smetterla. Lana preoccupata cerca di allontanarla. Te la farò pagare dovessi metterci settimane mesi ti schiaccerò sotto i piedi e se non potrò farlo di persona troverò sempre qualcuno che lo faccia per me e sistemerò anche tua madre e tua figlia e è il mio mestiere. Cheryl è sconvolta. In quel momento qualcosa è scattato in me la mamma era in pericolo tutti noi eravamo in pericolo dovevo fare qualcosa allora ho pensato ad un oggetto che avevo visto poco prima in cucina. La ragazzina scende in cucina e prende un coltello poi torna al piano di sopra e riesce a convincere la madre ad aprire la porta. non so come siano andate le cose ad un tratto mi sono trovata davanti al letto di mia madre Johnny era lì completamente vestito gli ho detto la smetti di maltrattare mia madre mi ha guardato un po' e poi gli è scoppiato a ridere allora ho sollevato il braccio che avevo tenuto piegato dietro la schiena e gli ho conficcato il coltello nel petto. In un primo momento l'attrice non si rende conto di cosa è successo questo il suo racconto al processo tutto avvenne così in fretta che non vidi neppure il coltello tra le mani di mia figlia pensai che gli avesse vibrato un pugno nello stomaco ma Johnny si piegò in avanti girò su se stesso e cadde sulla schiena si teneva le mani alla gola e rantolava sono corsa vicino a lui gli ho alzato il pullover e ho visto il sangue allora ho tentato di soffiargli aria nella bocca semiaperta avevo le labbra contro le sue stava morendo come in trance Lana si attacca al telefono chiamai mia madre al telefono mi disse di calmarmi che sarebbe venuta subito e avrebbe portato con sé il medico io presi il coltello dalle mani di Cheryl e lo gettai nel lavandino poi afferrai degli asciugamani e tentai di tamponare la ferita di Johnny poco dopo arrivarono la mamma e il dottor McDonald che praticò un'iniezione di adrenalina a Johnny a un certo punto alzò gli occhi verso di me e disse che non c'era più nulla da fare che si è Jezebel, Jezebel. If ever the devil was born without a pair of horns, it was you. Jezebel, it was you. Jezebel, it was you. Anna e la figlia Cheryl hanno avuto modo di conferire con il loro avvocato, fatto che alimenterà molti sospetti. Cheryl poi viene interrogata dalle autorità in presenza della madre. I poliziotti furono assai scrupolosi e non fecero alcun favoritismo. Voglio dire, ero la figlia di una stella del cinema e non venni trattata con i guanti. Anzi, mi fecero passare tutta la notte in cella. Qualche giorno dopo il cadavere di stompanato viene sepolto a Woodstock, nell'Illinois, con gli onori militari. Ma ciò non placa l'ira di Mickey Cohen, Occhi blu, che rilascia dichiarazioni sibilline alla stampa. Non riesco a capire. Pensavo che a Cheryl piacesse Johnny. Ci divertivamo molto noi tre. Cheryl, Johnny e io. Votavamo spesso a cavallo insieme. L'intera faccenda mi puzza. Ci sono un mucchio di interrogativi senza risposte. Alcune settimane dopo l'omicidio, alcuni giornali scandalistici pubblicano le lettere che Lana scriveva a Johnny. Amore mio adorato, ho ricevuto stamattina la tua preziosissima ed eccitante lettera. E ora ti scrivo questa per dirti che adoro il modo in cui mi scrivi e tutte le cose meravigliose che mi dici. Quindi ti prego, caro, continua, continua. Ogni riga mi riscalda e mi fa male. E mi fa avere nostalgia di te. La lettera che ti ho scritto ieri notte è sulla stessa lunghezza d'onda di quella che ho appena ricevuto da te. E che dimostra che io e te siamo in perfetta sintonia. In tutto e per tutto. Sai quanto ti amo. Anche il guidato. Sempre stretta. Mio amante. Mi magio. È Cohen che ammette di aver sottratto il lettere e dichiara... Ho pensato che fosse giusto far sapere che Johnny non era esattamente quella compagnia sgradita di cui va parlando la Turner. Quando viene perquisito l'appartamento di Stompanato, oltre ad una foto dell'attrice con dedica affettuosa, viene ritrovata una bustina di plastica con una ciocca di capelli biondo platino. Sul retro la scritta. Una settimana dopo il delitto, il coroner convoca l'inchiesta giudiziaria. Interrogato dai giornalisti sulla faccenda, dice... Provo. Quando i giurati si ritirano per deliberare, in meno di mezz'ora decidono, ma non all'unanimità, che l'omicidio è avvenuto per legittima difesa. Così scrive la Domenica del Corriere sul verdetto. Il lieto fine è arrivato. Ognuno ha fatto la sua mossa con estrema cautela. Lana, Mickey, i parenti di Stompanato, gli agenti pubblicitari dell'attrice e della casa di produzione. Ma su tutto ha trionfato lo spirito di Hollywood, che in questi giorni è ritornata alla Hollywood di sempre. Cioè la casa di vetro in cui nessuna mossa è fatta senza tener conto delle reazioni di un pubblico vasto come il mercato mondiale. I familiari di Johnny, che non credevano alla versione di Lana Turner e della figlia, citarono l'attrice in tribunale per un milione di dollari. L'attrice staccò subito un assegno di 20.000 dollari che chiuse per sempre la bocca della famiglia Stompanato. Cheryl Crane, dopo l'inchiesta, andò a vivere con la nonna materna. Negli anni a venire dovete affrontare periodi molto duri e i rapporti con la madre si raffreddarono. Lana superò indenne la tragedia. Anzi, sulla scia dello scandalo, la sua carriera conobbe una nuova primavera. Si sposò ancora due volte e morì nel 1995, colpita da un cancro alla gola. Buonasera a tutti da Antonella Ferrera. Questa sera è qui con noi in studio Laura Laurenzi, che è inviata speciale di Repubblica, dove scrive di attualità e costume. Ma è anche una scrittrice di grande successo. Il suo ultimo libro, giunto alla seconda ristampa, ha il titolo Infedeli e parla di grandi amori e di grandi tradimenti del Novecento. Signora Laurenzi, secondo lei c'è qualche personaggio, qualche storia che le ricorda quella che noi abbiamo oggi proposta? Dunque, uguale, identica no, anche se questo è un canovaccio che sembra addirittura inventato per una fiction. Perché, insomma, la storia di Lana Turner e Johnny Stompanato con la figlia colpevole, ma in realtà che agì per legittima difesa, sembra veramente una vicenda scritta da sceneggiatori di grandissima vaglia. Però è anche vero che la realtà supera la fantasia. Nel libro Infedeli ci sono moltissime morti toccate dal giallo. Penso a Frida Kahlo, la pittrice che fu probabilmente aiutata a morire dal marito Diego Rivera. Penso a Marlene Dietrich, anche lei, un suicidio assistito dalla sua segretaria Norma Bosquieu. O anche, beh, ovviamente tutti sanno della misteriosa, insomma, della morte non chiara di Maria Callas. Non fu fatta l'autopsia, fu, insomma, ci sono ancora molti misteri. O penso, non so, a Yves Montand, la cui Salma fu riessumata sette anni dopo la morte per un test genetico. O altri mille casi, ecco, in Infedeli io parlo, per esempio, di Peggy Guggenheim, la vicenda della sorella di Peggy Guggenheim, Hazel, donna anche lei, ricchissima, miliardaria, erano figlie di quel Guggenheim affondato nel Titanic, che vide morire sotto i suoi occhi due figli di quattro e un anno, caduti, precipitati o fatti precipitare dal tredicesimo piano di un grattacielo a New York. La famiglia era così potente che fu messo tutto a tacere, ecco, è pieno, il libro infedele, è pieno di misteri che non sono stati risolti. Signora Laurenzi, come mai, secondo lei, una donna famosa, bella e corteggiata come Lana Turner, finì in una storia così torpida? Ma io credo che Lana Turner, che si avviava ormai verso il declino, anche se poi vedremo che cinicamente questa storia di sangue le porterà fortuna professionalmente, e non so quanto umanamente, però, ecco, lei aveva, mi sembra, 36 o 37 anni, un'età che oggi noi consideriamo fortunatamente un'età giovanile, ma che per una donna negli anni 50 era l'anticamera della pensione, e quindi probabilmente fu un brivido erotico, credo che ci fosse una forte storia di carnalità, che la fece precipitare in una spirale, dalla quale poi si accorse ben presto che era impossibile uscire. Quindi più passione che amore? Sicuramente più passione, più carnalità che amore, inteso. Poi amore, e voglio dire, dovremmo metterci d'accordo sulla sua terminologia, tornando al discorso sull'infedeltà, vediamo che sì, noi siamo tarati probabilmente per tradire, o quantomeno per non essere fedeli, ma se è vero che la curva del desiderio, man mano con il passare degli anni, scende, però invece si rafforza la curva dell'affetto. Ecco, mi sembra che di curva di affetto con Gianni Stampanato non ce ne sarebbe stata mai, mentre invece quella del desiderio si mantenne, per tutti mi pare fossero 15 i mesi che vissero insieme, piuttosto alta. Lei che è un'attentissima osservatrice del mondo dello spettacolo, ci può dire se secondo lei in questo ambiente cambiano i sentimenti, assumono un valore diverso? Io penso che nel mondo dello spettacolo, ma così come anche nel mondo della politica, o comunque fra le persone conosciute, fra le persone in vista, ci siano molti meno rapporti sinceri, cioè che chiunque è dotato di danaro, di potere, di talento, di ricchezza, di visibilità, deve mettere in conto che le persone che si legano a lui lo fanno in buona parte per interesse, e quindi c'è meno genuinità sicuramente. Secondo lei è più facile per un uomo o per una donna perdere la testa per una persona fatale ma distruttiva, come è successo alla Natale con Johnny Stompanato? Beh, è vero che letterariamente le immagini della Dark Lady o della femme fatale sono molto forti, però penso che dal punto di vista forse sessuale e sensuale le donne siano più soggette a perdere la testa per una forte passione, probabilmente ecco con l'aggravante di innamorarsi, mentre l'uomo è anche lì, io nel libro Infedeli questo discorso lo faccio, è diversa la maniera in cui è percepita l'infedeltà da parte di una donna che non quella da parte di un uomo, cioè non esiste, non vige la par condicio, l'uomo che tradisce è sempre uno che viene quasi ammirato, la donna è anche in ambienti diciamo dello spettacolo, in ambienti più evoluti, la donna viene censurata, è considerata una donna di facili costumi, mentre invece di un uomo nessuno dice mai che è di facili costumi. Signora Laurenzio, un'ultima domanda, lei nel suo libro Infedeli ha scritto l'umano, forse il troppo umano, è il segno sotto cui si è svolta l'esistenza dei personaggi, intendo i personaggi di cui lei ha parlato nel libro, cosa intendeva esattamente? Intendevo quello che io ho cercato di fare in tutte e quattrocento le pagine di Infedeli, io sospendo il giudizio morale, non do il giudizio morale, non lo do perché è sin troppo facile darne uno e penso che in realtà come ha già scritto poi Simenon, non esistano colpevoli, questa era una frase che lui poi attribuisce a Megret, Mitterrand disse di Megret, di veramente mio, gli ho dato una regola fondamentale, comprendere e non giudicare, perché ci sono soltanto vittime e non colpevoli e penso sostanzialmente che quando c'è un tradimento e in Infedeli ce ne sono tantissime, multipli, la colpa non sta mai solo da una parte, sì la responsabilità può essere di chi tradisce, però c'è una sorta di condivenza da parte di chi viene tradito. Il tempo a nostra disposizione è terminato, Antonella Ferrera vi saluto e vi ringrazio per essere rimasti in nostra compagnia. Ringrazio anche Laura Laurenzi per essere intervenuta e vi do appuntamento alla prossima settimana su Radio 3 alle 19 con un nuovo caso della storia in giallo. Per la storia in giallo, un programma di Antonella Ferrera, avete ascoltato il caso Johnny Stompanato. Ecco gli attori di oggi. La canzone che ha ascoltato in sottofondo la canta Frank Sinatra e la famosa This Foolish Things, queste cose un po' matte. Di sua iniziativa il cantante inserisce una variazione parlando del sorriso di Lena Turner. The Smile of Turner The Smile of Turner And the scent of roses The waiter's whistling As the last bar closes The song that Crosby sings These foolish things Remind me of you The Smile of Turner Grazie.